I pensionati sono una grande realtà del nostro paese e rappresentano quasi il 22% dei cittadini italiani. Il sindacato pensionati SPI-CGL cerca di analizzare i temi e bisogni delle persone anziane per meglio rappresentare la loro condizione. Quest'anno la CGL ha presentato il secondo piano del lavoro nazionale dopo quello elaborato da Di Vittorio 64 anni fa, un piano per lo sviluppo, difesa dei diritti e delle retribuzioni. Sarà poi obiettivo della CGL costruire intorno a questo piano del lavoro, secondo me molto ambizioso, molto bello, un piano del lavoro che secondo me qualifica l'attività del sindacato. Dobbiamo portarlo nelle aziende, dobbiamo farlo conoscere ai lavoratori, dobbiamo costruire un consenso intorno a questo piano per il lavoro. Solo così possiamo dare un futuro al nostro paese. Grazie all'impegno del sindacato sono stati ottenuti due importanti risultati. Abbiamo ripristinato il diritto alla pensione di vecchiaia sui 15 anni e non sui 20 anni e questa era una norma che aveva particolarmente penalizzato le donne. L'altra norma che siamo riusciti a cancellare e a modificare è quella norma contenuta nella riforma del mercato del lavoro, dove si dice che i datori di lavoro devono pagare un contributo per la disoccupazione per i propri lavoratori che si licenziano. Ovviamente in questa norma erano compresi i pensionati che avevano le badanti. È stata superata, ovviamente non se ne devono far carico i pensionati. Siamo alla vigilia di un importante appuntamento elettorale. Cosa chiede SPICGL a chi si candida a governare il nostro paese? Chiediamo innanzitutto che venga rimosso il blocco della rivalutazione delle pensioni, quelle pensioni di 1.100 euro che sono state bloccate dalla riforma Fornero. Così come chiediamo di allargare la platea di coloro che percepiscono la 14esima mensilità. Chiediamo una riforma fiscale equa che vada ad abbassare le tasse sulle pensioni e sui redditi da lavoro, che non vengono smantellati i servizi sociali alle persone. Chiediamo che la sanità sia universale per tutti e chiediamo un fondo sulla non autosufficienza a livello nazionale che è stato azzerato, ma chiediamo anche una legge sulla non autosufficienza. In questa fase di crisi spesso i pensionati con i propri redditi sono intervenuti per fare gli ammortizzatori sociali. Non crediamo all'antipolitica, noi vogliamo che le persone vadano a votare, che esprimano comunque il proprio voto. E io credo che nella compagine di coloro che si appresteranno a governare il Paese, credo che il centro-sinistra possa essere quello più vicino ai bisogni delle persone che noi rappresentiamo. Grazie.